Guarda anche gli altri bimbi, hanno paura, è la moto del nonno, è bella, è rossa quindi già vale 5 euro di più poi quando esagera, poi va da su, hai visto? Sì adesso andiamo, dopo va da sola eh, vedi che va da sola Sì e te vuoi andare, c'è la fifa eh Fa un caldo bestia C'è l'ha il ninetto, l'ha portato qua l'altro nonno E va, vai là a trovarlo, è là in passeggino dietro la montagnetta, fa che lo butti in terra eh Ohhhh Ho oooo Grazie a tutti. Chi è? Chi è? Chi è, Yuri? Espanti! Fa un caldo dannato qua. Chi è? 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 Chi